Benvenuti nel mondo degli orologi Leap. Leap è un marchio di orologi francese che vanta una storia di oltre 150 anni nel settore dell'orologeria. Fondata nel 1867, la prima fabbrica di orologi Leap si trovava a Besançon, in Francia. Tra i modelli più iconici di Leap spicca sicuramente il Nautic Ski, un orologio subacqueo creato per la prima volta nel 1967. Questo orologio subacqueo è stato utilizzato dagli esploratori subacquei francesi Jacques-Yves Cousteau e Frédéric Dumas durante le loro spedizioni subacquee, contribuendo a stabilire la reputazione di Leap come produttore di orologi subacquei di alta qualità. Negli anni 70, Leap ha collaborato con il designer francese Roger Talon per creare il modello MAC 2000, un orologio futuristico con un design distintivo e innovativo. Questo orologio è diventato un'icona del design francese. Il MAC 2000 ha un design unico, con una cassa in plastica e un cinturino in gomma, e ha rappresentato una svolta nella produzione di orologi da polso. Leap è un marchio di orologi che si distingue per l'innovazione, la qualità e il design distintivo dei suoi prodotti. Grazie alla lunga storia e alla reputazione consolidata, Leap è ancora oggi uno dei marchi di orologi più rispettati e amati in Francia e in tutto il mondo. I suoi prodotti sono apprezzati dagli appassionati di orologeria e dalle persone che cercano un orologio di qualità e di stile.